Ti ha spezzato il cuore? El te rompió il corazón? Voglio un'insalata. Quiero una insalada. Cerchiamo di finire oggi. Trattemos de terminar hoy. Mi piace nuotare la sera. Me gusta nadar en las noches. Hai bisogno di me? Tu me necesitas? Avete ancora dei biglietti? Te quedan entradas? Traduci questo per me, grazie. Traduce esto per me, grazie. Studia odontoiatria. Ella studia odontologia. I bambini hanno rotto questo vaso. Los niños rompieron este jarrón. Mia madre vuole che sia così. Mi madre vuole che sia così. Sto ancora lavorando lì. Todavía sigo trabajando ahí. Dobbiamo finire oggi. Debemos terminar hoy. Sono orgoglioso dei miei genitori. Il tempo non mi ha permesso di viaggiare. Il clima non mi ha permesso di viaggiare. Mio nonno arriverà presto. Mi abuelo arriverà pronto. Mi piace vederti ridere. Mi encanta verte reire. Aiuta sempre gli altri. Ella sempre aiuta a los demás. Avete ricevuto i prodotti? Recibiste los prodotti? Attenzione ai pensieri. Cuida tus pensamenti. L'edificio è piuttosto antico. Il edificio è abbastante viejo. Quell'autobus va in centro. Ese autobus va al centro. È un corso di public speaking. È una classe di oratorio. Passare la mano del braccio sopra la testa. Passa tu brazo mano por encima di tu cabeza. Questa mattina sono andato al mercato. Esta mattina fui al mercato. Troviamo una soluzione creativa. Buschiamo una soluzione creativa. La perseveranza paga. La persistencia tiene su premio. Quei ragni mi spaventano. Esas arañas me dan miedo. Questi sono i migliori. Esos sono i migliori. Quegli uomini sono artisti. Aquellos hombres sono artisti. Mi ha detto la risposta. El me dijo la risposta. Sto cercando la mia chiave. Sto buscando mi llave. La loro idea è fantastica. La idea de ellos è impressionante. Non essere egoista. No seas egoista. Dov'è tua madre? Donde sta tu madre? Voglio essere una persona migliore. Quiero ser una mejor persona. C'è altro? Alguna cosa más? Che belli i fiori. Sono per me. Che bonitas las flores. Sono per me. Perderai se mantieni questa mentalità. Perderai se sigues con esa mentalità. Se le ragazze sono in ritardo, usciremo senza di loro. Si tardan las chicas, saldremo sin ellas. Quando penso a te, sono contento. Quando penso en ustedes, me alegro. Mi viene il mal di testa. Me duele la cabeza. È importante per lei? Eso è importante per ti? Non è permesso qui. Eso no está permitido aquí. Mi piacerebbe viaggiare in più paesi. Me gustaría viajar a más paesi. Preferisco sentire la verità. Preferiría escuchar la verdad. Affrontare la situazione in modo intelligente. Trata la situazione con intelligencia. Più ordinato, più redditizio. A maggior ordine, maggior rentabilità. Mia madre è molto disciplinata. Mi madre è molto disciplinata. Il suo sorriso è affascinante. Tu sonrisa è encantadora. Non voglio parlare con lei. No voglio parlare con lei. Non ricordo ancora. Sono fuori dalla stazione. Estoy afuera della stazione. Voglio andare domani. Io voglio andare domani. Sono già arrivati. Ellos già llegaron. Pratico il portoghese ogni giorno. Io pratico portoghese tutti i giorni. Ti sei unito al gruppo? Entraste al gruppo? Non posso ripetere tutto. No puedo repetir todo. Vuole andare. Ella si quiere ir. Partiamo tra un'ora. Salimos en una hora. Come hai fatto? Come hai fatto questo? Stai ancora pensando a lei? Stai ancora pensando a lei? Sigues pensando a ella? Quella donna è una persona fantastica. Esa mujer è una gran persona. Ma non è una persona. Avete provato il nuovo gusto? Probaste il nuovo sabor? Mi piacerebbe vivere in questo quartiere. 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 Voglio essere più coerente con il mio apprendimento. Vuoi sposarti? È stato un risultato ecco. La mia auto si sta rompendo. Smettetela con le vostre pretese. Proviamo questo nuovo piatto. Mi piace parlare in pubblico. C'è un posto per me? Concentrarsi maggiormente su questo aspetto. Mangiamo un hamburger? Comemos hamburguesa? Leggere attentamente. Por favor, lee cuidadosamente. Voglio un succo d'arancia. Quiero un jugo di naranja. È vero quello che hanno detto di lei? È certo lo che dijeron ellos di te? Ha ottenuto ciò che lei voleva. Ha ottenuto tutto. Tutti conoscono questa macchina? Tutti conoscono questa macchina. Sai nuotare? Tu sabes nadare? Hai corso un grande rischio. Tomaste una gran opportunità. Voglio condividere con voi questo. Voglio condividere con voi questo. Voglio condividere questo contigo. Il mondo ha bisogno di più persone come te. Il mondo ha bisogno di più persone come te. Deve migliorare. Questo deve migliorare. Ho preparato tutto da solo. Io preparé tutto solo. Le piacciono i documentari? Te gustano i documentari? A quanto pare i tuoi genitori lo sanno già. Al parecer, tus padres già lo saben. Attenzione a ciò che si dice. Ten cuidado con lo che dices. Sai giocare a scacchi? Sabes jugar ajedrez? Devo pagare la mia carta di credito. Devo pagare la mia carta di credito. Attenzione alla postura. Cuidado con tu postura. Le piace la poesia? Te gusta la poesia? Questo mi rende orgoglioso. Questo mi rende orgoglioso. Compriamo questo in saldo. Compriamo questo in oferta. Questo profumo è meraviglioso. Este aroma è meraviglioso. Cantate sotto la duccia? Cantas en la duccia? Una tazza di caffè, grazie. Una tazza di caffè, grazie. Voglio sempre vincere. Siempre quiero ganar. Mi scuso. Te pido disculpas. Te pido disculpas.